Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'evento annuale IWA Italy dedicato quest'anno ancora al tema dell'accessibilità. Quest'anno particolarmente perché, come ben sapete, tra un anno esatto, un anno e una settimana circa, entrerà in vigore una nuova normativa dell'European Accessibility Act che obbligherà di fatto a operare in modo totalmente accessibile, anzi come piace a dire a noi che ci occupiamo del tema da oltre vent'anni, accessibile by default. Il panel di oggi è molto interessante. Tendenzialmente la tematica di oggi è particolare perché non è una presentazione di contenuti in tema di accessibilità, quindi slide formative e via dicendo, ma sono delle persone che quotidianamente lavorano in tema dell'accessibilità e quindi condividono quali sono le necessità che devono essere supportate, le competenze, le abilità e le conoscenze che devono avere i professionisti che operano nel digitale per garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi. Quindi il programma di oggi ve lo riepilogo velocemente dopo questi saluti iniziali che sto facendo, poi con anche i ringraziamenti a chi si sta supportando in questa tematica, ricordando innanzitutto che chi si sta seguendo via Zoom ha la possibilità di attivare i sottotitoli che sono generati da esseri umani, quindi non stiamo utilizzando intelligenza artificiale per questo evento, per la sottotitolazione, ma abbiamo esseri umani e abbiamo anche la possibilità di attivare l'interprete da lingua dei segni. Anche in questo caso abbiamo le nostre oramai amiche che ci seguono nei nostri eventi, le avete conosciute probabilmente ad Accessibility Day per fare uno dei tanti esempi dove le avete potute consultare. Se invece ci state seguendo direttamente da YouTube oppure preferite utilizzare YouTube per seguire questo evento, avete una composizione video dove trovate già queste funzionalità attive disponibili a tutti. Quindi chiaramente è un evento inclusivo, il nostro interesse è proprio parlando di accessibilità, è di garantire che anche questo tipo di comunicazione, di esposizione non discrimini nessuno. Detto questo, dopo i saluti iniziali e una breve presentazione del progetto Accessible EU che è coorganizzatore di questo evento, vi citerò, vi darò alcune informazioni sulle norme che coinvolgono l'accessibilità. All'inizio diciamo dagli obblighi normativi, quindi cosa ci capiterà, cosa ci sta già capitando anche a vostra insaputa su questa tematica e quali sono le norme che regolano le competenze professionali in questo tema. Subito dopo di me passerò la parola a Michela Cananna, che è una web accessibility expert, che vi parlerà delle competenze professionali in accessibilità richieste al designer. Subito dopo seguirà Fabrizio Caccavello, che è responsabile per IWA di webaccessibile.org, che vi parlerà invece delle competenze professionali in accessibilità richieste a chi svolge la professione del developer. Subito dopo Simon Mastrangelo di Ergo Project vi parlerà delle competenze professionali per gli esperti di accessibilità in uso. Questo è un tema particolarmente interessante perché chi si occupa di accessibilità, come vedrete, non è soltanto la persona ultra tecnica, ma deve avere anche delle conoscenze e abilità particolari per garantire che ciò che viene prodotto conforme a norme tecniche di legge sia anche realmente accessibile a persone con disabilità. E a questo punto si lega perfettamente l'intervento di Sabato De Rosa che parlerà delle competenze professionali dei valutatori con disabilità, ossia coinvolgere persone con disabilità nelle verifiche di accessibilità. Un tema che noi ricordiamo sempre è importantissimo, non si può lavorare, non si può effettuare implementazioni e verifiche senza coinvolgere le persone direttamente interessate. E in conclusione del giro di interventi ci sarà Sauro Cesaretti, presidente di Accessibility Days, che sostituisce Francesca Sbianchi, vicepresidente dell'associazione che purtroppo oggi non ha potuto partecipare per assenza di voce, un po' come è successo a me ad Accessibility Days, e vi parlerà dell'importanza dell'accrescimento delle competenze professionali e di ciò che si è imparato con l'esperienza di Accessibility Days, il più grande evento nazionale dedicato al tema. Dopo questo avremo una tavola rotonda dove chi è in Zoom, ma anche chi è in YouTube, può porci delle domande specifiche magari relative ai vari interventi o più a livello generale e con il tempo a disposizione che avremo cercheremo di rispondere a tutti. Siete tantissimi, ci sono registrate a questo evento oltre 500 persone, quindi parliamo di numeri importanti, anche perché l'evento non è corto, dura ben tre ore, e quindi iniziamo a questo punto i lavori. Grazie a tutti.